Dopo una lunga notte con ultime correzioni e tensioni, poco prima delle sette, la Camera ha dato il via libera alla prima manovra del governo Meloni. 197 sì, 129 voti contrari. Protesta delle opposizioni per due emendamenti presentati dall'esecutivo dopo il voto di fiducia. Ora il testo blindato passa al Senato. Il presidente ucraino Zelensky lavora un piano di pace in 10 punti da presentare secondo il Wall Street Journal il 24 febbraio prossimo, proprio ad un anno dall'inizio dell'invasione russa. Zelensky ne avrebbe già parlato con il presidente americano Biden, ma al momento una vera trattativa sembra lontana e la Russia frena, non ci risulta alcun piano, fanno sapere da Mosca. Attenzioni e scene da guerriglia urbana a Parigi dopo l'uccisione di tre membri del Consiglio Democratico kurdo, freddati a colpi di pistola da un uomo con precedenti propri operati di violenza di stampo razzista. Dopo la strage esplosa la protesta della comunità kurda. Per sedare i disordini, agenti in tenuta antisommossa hanno lanciato cariche e gas lacrimogeni. Claudio Ragneri sceglie con il cuore l'allenatore che ha un curriculum di panchine più che prestigiose in Italia e all'estero tornerà ad allenare il Cagliari. In serie B, squadra con la quale praticamente iniziò oltre trent'anni fa la sua carriera. I mister. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG La7 in questa vigilia di Natale. Dunque la Camera ha approvato la manovra, questo tortuoso e complicato percorso ha raggiunto il primo importante step. Il 27 il testo arriverà in Senato per l'approvazione definitiva prima della fine dell'anno. La manovra è stata approvata con 197 voti favorevoli, 129 contrari e 2 astenuti. Allora andiamo a vedere cosa contiene questa famosa e tanto discussa manovra. Ammonta 35 miliardi di euro la prima manovra economica del governo Meloni, 21 dei quali saranno impiegati per calmierare i rincari di luce e gas e i conseguenti aumenti in bolletta per imprese e famiglie. Tante le modifiche viene confermata l'ulteriore stretta reddito di cittadinanza che dal 2023 passa da 8 a 7 mensilità per chi può lavorare. Si perde il diritto al sussidio rifiutando già la prima offerta di impiego, anche se non congrua. La legge di bilancio conferma il taglio contributivo del 2% per i redditi fino a 35 mila euro e allarga la platea per la sforbiciata del cuneo fiscale al 3% estendendola ai redditi fino ai 25 mila euro. Nel pacchetto lavoro anche l'estensione da 6 a 8 mila euro del tetto per le decontribuzioni dei giovani, dei percettori di reddito di cittadinanza e delle donne fragili. Novità in arrivo anche sullo smart working, prorogato per i lavoratori fragili fino al 31 marzo. Varrà sia nel settore pubblico che privato. Sale a 5 mila euro la soglia per il contante, mentre su pressione di Bruxelles salta il tetto di 60 euro per i pagamenti elettronici. Reintrodotte anche le multe per gli esercenti che rifiutano le transazioni sotto quella cifra. Capitolo pensioni, le minime nel 2023 saranno rialzate a 600 euro per gli over 75. rivista per due anni anche la rivalutazione automatica degli assegni, che sale dall'80 all'85%. Con opzione donna le lavoratrici potranno andare in pensione anticipatamente a 60 anni, ma solo nel caso in cui siano cargiver o invalide oppure se licenziate per causa di crisi aziendali. Sul fronte multe e tasse non ci sarà più la cancellazione automatica per le cartelle esattoriali sotto i 1000 euro. Prorogato invece al 31 dicembre il super bonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie. Sul versante mutui sarà possibile rinegoziarlo, passando dal tasso variabile a quello fisso, per quelli fino a 200 mila euro, con Isee non superiore ai 35 mila. Il congedo parentale sale dal 30 all'80% e potranno beneficiarne anche i padri. Per i 18 anni arriva il nuovo bonus cultura fino a 1000 euro, per chi ha un Isee familiare fino a 35 mila euro e per chi ottiene un voto alla maturità pari a 100 su 100. In manovra arriva infine una norma che autorizza la caccia ai cinghiali nei parchi urbani. E poi in aggiunta i due emendamenti che hanno scatenato la protesta delle opposizioni. Il primo emendamenti presentati dalla maggioranza dopo la fiducia, il primo per l'allineamento delle coperture, il secondo per l'acquisto da parte dello Stato di Villa Verdi e per contrastare la peste su Ina in Piemonte. E ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in Iraq per visitare il nostro contingente militare di stanza in quel paese. La Meloni ha rivolto un saluto ai soldati italiani dicendo siamo fieri di voi e grazie al vostro lavoro che ci sentiamo più credibili e affidabili. Nel corso della visita naturalmente la Meloni ha incontrato anche il Primo Ministro iracheno al Sudani. Una visita a Lampo per ribadire il ruolo centrale dell'Italia nell'Iraq della rinascita ma anche per ringraziare il contingente militare dispiegato in quel paese. Il primo viaggio di Giorgia Meloni tra i soldati italiani per Natale è iniziato da Baghdad. Un Iraq forte è una condizione di prosperità in Medio Oriente ha detto la Presidente del Consiglio che ha incontrato anche il Premier iracheno al Sudani il Capo di Stato Rashid e il Presidente del Parlamento al Busi. Le nostre relazioni bilaterali, ha detto Meloni, sono intense e hanno radici profonde. L'Iraq è una nazione che ha compiuto importanti passi in avanti sul piano della sicurezza e della stabilità politica e si può guardare con ottimismo alla ricostruzione. Una vicinanza che rientra nel quadro della coalizione anti-ISIS. Poi l'incontro con il contingente militare italiano che ha il comando della missione NATO con tappa Anka Ebril regione autonoma del Kurdistan iracheno. Le foto con i soldati che le hanno donato una bandiera con tutte le loro firme l'Italia è fiera dei vostri sacrifici ed è più credibile e affidabile grazie al vostro lavoro ha detto la Presidente del Consiglio in tutta mimetica. La presenza italiana nella coalizione internazionale è la più consistente con 1.100 militari, il cui compito è quello di addestrare le forze locali. Una presenza finalizzata anche a rafforzare la sovranità dello Stato iracheno e l'influenza dell'Italia in Iraq nel settore industriale ma anche culturale. Ai soldati Meloni ha detto l'affidiabilità che l'Italia vanta nel mondo cammina sulle vostre gambe, sul vostro esempio e sui vostri sacrifici. In una intervista al Corriere della Sera l'ex premier Mario Draghi è tornato a parlare pubblicamente dopo la fine della sua esperienza a Palazzo Chigi. Draghi rivendica i successi del suo esecutivo e torna sui giorni nella scorsa estate che portarono alla fine di quella esperienza. Su governo Meloni si astiene dal giudizio, non spetta a me, avverte, ma sottolinea l'importanza per l'Italia di mantenere saldo l'ancoraggio all'Europa. Draghi respinge poi le accuse dell'attuale esecutivo di aver lasciato ritardi sul PNRR. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi nei primi due semestri, sottolinea l'ex premier, come ha certificato la Commissione europea. Parliamo di politica con quello che sta accadendo all'interno del PD, quarta candidatura ufficiale per le primarie del Partito Democratico. Ieri ha annunciato la sua corsa per la segreteria anche Gianni Cuperlo. Ci ho riflettuto e so benissimo che ci sono due candidature favorite, ha detto il deputato PD che già nel 2013 aveva corso le primarie contro Renzi, ma credo che sia un congresso talmente importante che chi ha delle idee abbia il dovere di esporle. Cuperlo si aggiunge ai tre candidati già in campo, Stefano Bonaccini, Ellie Schlein e Paola De Micheli. E adesso parliamo della guerra in Ucraina perché si vive il primo Natale in questi 300 e passa giorni di guerra da quella 24 febbraio. Si lavora ad un tavolo di pace, si lavora soprattutto sul versante ucraino, con un piano articolato messo a punto da Presidente Volodymyr Zelensky e già condiviso con il suo omologo statunitense Joe Biden. Grazie America Volodymyr Zelensky esprime gratitudine al congresso statunitense. Nella notte passato il disegno di legge bipartisan sulla finanziaria già approvata dal Senato e firmata anche da Joe Biden. Tra i 1700 miliardi della manovra ci sono anche i 45 destinati a Kiev. È fondamentale che gli americani siano al nostro fianco in questa lotta per la libertà ha commentato il Presidente ucraino e dopo il via libera ai missili Patriot il nuovo stanziamento finanzierà i pacchetti di aiuti per il 2023. Un'ottima notizia anche per l'industria bellica, sia americana che russa. Ieri Vladimir Putin in visita nel distretto produttivo di Tula specializzato nella costruzione di armi e forniture militari ha dato l'ordine di inviare rapidamente all'esercito tutto ciò di cui ha bisogno per la guerra un avanti tutta che serve a preparare la ripresa dei combattimenti in vista della prossima primavera. Secondo i servizi segreti di Kiev la Russia avrebbe già aumentato il numero di truppe pronte a trasferirsi in prima linea tramite le ferrovie e i continui bombardamenti tra Bakhmut, Adbika e Liman nell'oblast orientale di Danesk sarebbero funzionali a mettere in sicurezza il principale percorso di approvvigionamento. Le notizie in arrivo da Washington e Mosca insomma non sembrano avvicinare l'avvio di un dialogo per una tregua, nonostante il Dipartimento di Stato americano ieri abbia fatto circolare la notizia di una proposta per la pace che Zelensky potrebbe annunciare a febbraio. Un piano in dieci punti illustrato alla Casa Bianca durante la visita a Lampo di mercoledì il segretario di Stato Blinken ne avrebbe già discusso con gli alleati del G7 ma al momento tutto sta invece ad indicare che su entrambi i fronti ci si prepara al conflitto su larga scala dopo la lunga pausa invernale. Furia omicida ieri di stampo razzista per le strade di Parigi un uomo di 69 anni che peraltro era appena uscito di prigione ha ucciso tre persone, ne ha ferite quattro nei pressi di un centro culturale kurdo. L'uomo era peraltro già noto alle forze dell'ordine per altre aggressioni nei confronti di immigrati. Era noto alla polizia e alla giustizia francese William M. l'ex macchinista di 69 anni che a mezzogiorno di venerdì ha ucciso tre cittadini kurdi, una donna e due uomini tutti appartenenti al Consiglio Democratico Kurdo di Francia ed è dentro e fuori la sede del Consiglio che è avvenuta la strage. Era passata da poco mezzogiorno quando l'uomo è entrato in azione prima ha aperto il fuoco contro chi si trovava all'interno del circolo culturale kurdo di Rudenghien poi ha esploso altri colpi in direzione di un ristorante e di un coaffer è all'interno del negozio che l'assalitore sarebbe stato affrontato e infine bloccato da un gruppo di persone restando ferito. Al contrario di polizia e procure i servizi di sicurezza sembra non avessero alcuna informazione sull'uomo condannato per reati di stampo razzista sin dal 2016 quando ferì a martellate un extracomunitario nel suo personale elenco c'è anche l'assalto a colpi di sciabola ad un campo profughi avvenuto poco più di un anno fa in attesa del processo d'appello aveva ottenuto la libertà vigilata l'uomo in serata si è dichiarato razzista la procura nazionale antiterrorismo per adesso non ha ritenuto dover aprire un dossier sull'accaduto di fatto scartando la matrice terroristica del gesto il ministro dell'interno Gerald Darmanen in una conferenza stampa sul luogo ha innescato una violenta reazione da parte della comunità colpita culminata con scontri con la polizia non è certo che l'autore dell'attacco abbia un impegno politico di sorta anche se ovviamente aveva nel suo mirino anzitutto stranieri ha aggiunto Darmanen questo lo stabilirà l'inchiesta giudiziaria per i kurdi invece si tratta chiaramente di omicidi politici innescati dal conflitto con la Turchia il presidente Macron ha espresso la sua vicinanza alla comunità kurda e alle famiglie delle tre vittime proteste si sono tenute anche a Marsiglia e per domani a Parigi è prevista una manifestazione in piazza della Repubblica dopo il duplice omicidio di due ragazzi italiani in Gran Bretagna nel nord Yorkshire per cui è stato fermato un giovane siciliano di 21 anni con problemi psichici altri due giovani di origine sempre italiana sono stati uccisi in Germania un 23enne nato da genitori messinesi e una sua amica di 20 anni originaria di Novoli in Puglia per il duplice omicidio è stato arrestato una 52enne zio della ragazza il cui corpo peraltro è stato trovato sepolto nel giardino appunto dell'uomo arrestato ancora non è chiaro il movente dei due omicidi adesso spostiamoci in Cina dove torna ad aleggiare ad aleggiare insomma si è concretizzato in maniera sconcertante l'incubo di una nuova ondata di coronavirus che si sta virus che si sta espandendo velocemente in tutto il paese con numeri e record e con le strutture sanitarie già allo stremo la Cina ripiomba in piena crisi covid 250 milioni di contagi solo nei primi 20 giorni di dicembre col 18% della popolazione è ammalata e il picco non sarebbe ancora arrivato lo riporta il Financial Times citando i dati forniti nel corso di un incontro col vice direttore del centro per il controllo e la prevenzione cinese durante un briefing a porte chiuse sulla salute nel paese numeri in deciso contrasto rispetto a quelli ufficiali della National Health Commission che nello stesso arco di tempo ha parlato di circa 62 mila casi gli esperti cinesi avrebbero sottolineato come il tasso di diffusione del covid nel paese sia in aumento stimando inoltre che più della metà della popolazione a Pechino fosse già infetta le immagini del CNN mostrano ospedali sotto stress abitori pieni persone sui letti di fortuna nei corridoi e persino per strada lunghe file ai forni crematori il tutto secondo i media cinesi legato anche a carenze di personale medico sanitario che continua a lavorare anche se contrae la malattia soprattutto nella capitale Pechino l'esplosione dei casi seguirebbe alla decisione del governo di Pechino di abbandonare le drastiche politiche di contenimento volute dal presidente Xi Jinping per affrontare il covid politiche queste che tenevano a bata il virus attraverso test di massa con quarantene obbligatorie e tracciamenti fino al secondo mandato misure abbandonate in seguito alle durissime proteste di piazza con scontri violenti le autorità però non avrebbero implementato alcun protocollo alternativo soprattutto davanti a una popolazione vulnerabile per la mancanza di efficacia dei vaccini prodotti localmente da oriente spostiamoci ad occidente perché gli Stati Uniti sono alle prese con un maltempo che sta creando grosse grosse difficoltà praticamente da nord a sud una grande tempesta ha portato vento, freddo, piogge e soprattutto neve in tutti gli Stati Uniti paralizzando il paese da nord a sud per i meteorologi sarà il Natale più freddo degli ultimi 40 anni negli Stati del nord la colonnina di Mercurio è già crollata fino a 40-50 gradi sotto lo zero in Iowa fa talmente freddo che non si può neanche pattinare sul ghiaccio le autorità hanno disposto alla chiusura delle aree dedicate perché è troppo pericoloso stare all'aperto per 10-15 minuti in Wyoming il ghiaccio ha provocato non pochi problemi sulle strade e alle infrastrutture elettricche fino ad ora l'ondata di maltempo che si sta battendo negli Stati Uniti avrebbe causato almeno 9 morti secondo la CNN infatti ci sarebbero stati diversi incidenti stradali con vittime a causa proprio delle strade ghiacciate a New York è stata dichiarata l'emergenza ed è stato vietato ai mezzi pesanti di circolare sono stati chiusi anche diversi tratti di autostrada a causa del vento che espira con punti di 127 km orari al momento l'epicentro della tempesta è proprio Buffalo nello stato di New York non va meglio a Boston i venti sostenuti stanno creando non pochi disagi ai trasporti ma non è solo il nord degli Stati Uniti a gelare dal Texas alla Florida i termostati segnano temperature mai viste da decenni quasi un milione di persone sono senza elettricità in 23 Stati e sono già stati cancellati oltre 6.000 voli a rischio ci sono anche i regali da mettere sotto l'albero di Natale FedEx e UPS hanno messo in guardia su possibili ritardi nelle consegne attese per il 25 dicembre a causa delle difficoltà logistiche e per lo sport il calcio italiano si appresta a bracciare di nuovo a riabbracciare un grande protagonista a livello italiano e internazionale perché Claudio Ragneri a distanza di oltre 30 anni da quella felice esperienza torna sulla panchina del Cagliari uno stile sempre molto british persò Ranieri da testaccio la leviscere del tifo romanista al respiro internazionale che lo ha consacrato come King Claudio nell'apoggio del successo con il Leicester che ha stupito il mondo nel 2016 era un allenatore maturo fuori dalle traiettorie d'oro ed è stato capace di mettere in ginocchio il superstar della Premier con il capolavoro delle Foxes Claudio Ranieri insieme al titolo una gratificazione speciale premiato dalla FIFA come tecnico dell'anno con la benedizione di Maradona e pensare che oltre mani che intorno a lui non era mancato lo scetticismo per coloro che non lo apprezzavano era Tinkerman l'aggiustatore e poco di più una visione mio per il Ranieri dotato di buonsenso nel proporre il suo calcio pragmatico senza mai spacciare propaganda o false illusioni ha lavorato in Spagna, Francia e Inghilterra quattro stagioni al Chelsea con una semifinale Champions l'isola inglese è stato il punto d'arrivo di Ranieri e curiosamente l'inizio della carriera in panchina coincide con la prova a Cagliari nell'altra isola della Felicità con la doppia promozione dalla Cia alla Serie A ora la marcorda dopo 31 anni e si accontenta della Serie B che affronterà con la solita saggezza per rianimare una squadra partita con grandi ambizioni Giallorosso è stato il suo cordone ombelicale fin da quando giocava con Marcigno Difensore ha lasciato ricordi indelebili nel Catanzaro degli anni 70 passato alla storia nel segno di Palanca tanto da meritarsi la cittadinanza onoraria con la sua amatissima Roma la grande illusione e il disincanto più amaro come allenatore lo scudetto ad un passo nel 2010 contro la Sampdoria vanificato dall'incubo Pazzini e nove anni dopo l'Olimpico lo accoglie con trenerezza Ranieri ci rimette la faccia al comando di una Roma in sofferenza dopo l'esonero di Di Francesco e Claudio non nasconde la commozione nel bel paese Ranieri detiene un record particolare unico ad aver disputato i quattro derby più importanti d'Italia con Juventus, Inter, Roma e Sampdoria dal primo gennaio via con una nuova avventura a soli 71 anni un grosso in bocca al lupo a Claudio Ranieri fra poco torna Paolo Sottocorona con il secondo appuntamento con il metro poi vi ricordo le edizioni la prossima edizione del TG la 7 alle 13 e 30 vi auguro una buona vigilia di Natale grazie e buona giornata grazie a tutti